Nicchi Giusino una carriera costruita sulla scia di Gabriele Paolini. Disturbando VIP e giornalisti televisivi. Lo ha reso un volto celebre del piccolo schermo. Grazie anche al suo caratteristico ciuffo rosso. Ma per Nicchi Giusino, dopo la ribalta mediatica degli ultimi anni, ora sono arrivati anche i guai con la giustizia. Sabato scorso, i carabinieri di Tivoli lo hanno sorpreso mentre cercava di uscire di corsa dal centro commerciale Roma Est. Tenendo in mano una busta colma di merce rubata. Articoli provenienti soprattutto da una parafarmacia e dalla profumeria Sephora. Per un valore di circa 268 euro. Che Giusino avrebbe sottratto insieme ad una ragazza di 18 anni. Trovata a sua volta con un'altra borsa contenente circa 520 euro di prodotti. Tra cui vestiti e articoli di cartoleria. Di merce rubata. La RRSTO a tradire il disturbatore TV. Una presenza quasi fissa nei telegiornali italiani. Oltre al suo comportamento sospetto. Stata anche la busta in cui aveva ammassato la refurtiva. Una shopper appartenente ad un noto brand di abbigliamento. Che per non si trova più all'interno del centro commerciale. Arrestato con l'accusa di furto. Giusino. Luned mattina. Nel corso della direttissima. Si avvalso della facolt di non rispondere. Ma per lui. In attesa dell'inizio del processo non stata disposta alcuna misura cautelare. Il suo lavoro di disturbatore TV. Insomma. Per ora a salvo. Altro su MSN. Il disturbatore Paolini condannato a 5 anni di carcere e per violenze su minori. Mediaset. Sponsorizzato. Offerta smartphone. Acer dual sim con Windows 10 e docking station gratis. Compra ora maggiore maggiore.